Inizierei ufficialmente questo primo convegno sull'arredo e sul design. Come sapete noi teniamo un convegno sui settori della moda dal 1995, a novembre di quest'anno sarà il ventesimo anno e abbiamo ritenuto opportuno partire anche con un convegno, riteniamo che il tempo sia maturo, per un convegno sulle strategie dell'arredo e del design. Quindi ufficialmente iniziamo una nuova era e chiamo a parlare il signor Moletto che rappresenta la rivista Hearst in Italia, la rivista si chiama poi del Decor. In sala c'è anche la signora Peraldo che direi fisicamente impossibilitata a partecipare ai lavori della giornata, ma è presente quindi sicuramente ci terrà compagnia fino alla fine. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono immeritatamente a sostituire Livia per Aldo, che purtroppo è riuscita ad arrivare fino a qui, ma non è riuscita a fare l'ultimo miglio, perché le scale per chi sanno cosa le è successo sono inaffrontabili. Per cui quando abbiamo deciso con Livia questa sostituzione, appunto di cui lei è da un lato molto delusa, perché tiene moltissimo a questo convegno, dall'altro conoscendola so che si è elevata lo stress del parlare in pubblico, quindi diciamo che c'è un piccolo vantaggio per lei del non essere qui sul palco. Abbiamo deciso insieme che, a differenza di come affrontiamo di solito gli speech, cioè con io che faccio un'introduzione più generale rispetto alla visione del gruppo del quale entrambi facciamo parte, e Livia che entra in media res raccontando cosa vede Eldecor, non solo come testata ma come marchio rispetto al mondo del design. E come in questi anni Eldecor ha saputo diventare il marchio punto di riferimento fra le testate, nel guidare alcune campagne chiave, noi riteniamo rispetto al settore, abbiamo preferito usarmi in trasparenza, ossia Livia mi ha scritto un discorso, io ve lo leggo, quindi diciamo in modo da dare la visione più chiara e netta e non interpretata da me, ma quindi semplicemente ritrasmessa di quello che pensa il marchio Decor e quello che sta facendo il marchio Decor in relazione al settore dell'arredo. Quindi in modo un po' non particolarmente intrattenente temo, però molto chiaro nei contenuti, vado a leggervi quello che Livia mi ha scritto. Allora, nel frattempo lei, io la vedo perché è in prima fila, tutti voi fortunatamente non la vedete perché lei si sta sotterrando rispetto a tutte queste panegiriche di affermazioni. Allora, è Livia che parla. L'idea di farci promotore di questo convegno è frutto di una riflessione sullo stato di salute del sistema design italiano, nel momento in cui si appresta a consolidare il ruolo di premium player in ambito internazionale. Momento che coincide con la crescita in autorevolezza di Eldecor Italia. In questi 25 anni di lavoro fatto sul campo, abbiamo contribuito a innalzare l'orizzonte aspirazionale dei nostri lettori e ad avvicinare il design al grande pubblico. Non solo, abbiamo creduto nel valore del confronto e della condivisione di ideali e coltivato solide relazioni con tutti gli operatori. Considerando il salto di scala che sta compiendo il settore, i cui confini si stanno riconfigurando, ci sembra opportuno ribadire la nostra capacità di visione strategica e di monitoraggio del mercato globale. Il tema di analisi strettamente economica e la connessione con l'attualità hanno trovato in pan bianco il partner giusto con il quale aprire il tavolo di discussione. Quando Eldecor Italia è stata fondata, nel 1990, il magazine festeggia quest'anno i primi 25 anni, il mercato del design era diverso, sia per dimensioni, volume e fatturati, sia per opportunità offerte ai marchi italiani di innescare efficaci strategie di internazionalizzazione. Oggi il sistema design che voi rappresentate sta crescendo in tutto il mondo e noi con voi. È nostra intenzione continuare a lavorare per produrre e promuovere la cultura del buon progetto in Italia e all'estero e coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Ecco perché Eldecor Italia è disponibile anche nella versione in inglese ed ecco perché Eldecor Italia ha investito e investe nella costruzione sempre in progress di una piattaforma multimediale che include app, imag, social network e web. L'architettura del sistema è stata infatti pensata per offrire contenuti B2C, diretti a un pubblico consumer, e B2B, diretti agli addetti ai lavori. Vi chiederete come è possibile raggiungere e fidelizzare due target così diversi. La risposta è linguaggio accessibile ed originale. Quando nel 2000 il sociologo Giampaolo Fabris ha dichiarato che in Italia l'atteggiamento dei consumatori nei confronti del prodotto design stava evolvendo, dimostrandosi pronto ad accogliere una nuova idea di dimensione domestica, Eldecor Italia, forte del suo know-how, ha saputo cogliere segnali del cambiamento. Abbiamo rotto gli schemi e inventato un nuovo modo di comunicare, partendo dal vocabolario. Prima di tutto abbiamo mappato i codici utili a definire una nuova estetica del Made in Italy. Poi abbiamo iniziato a lavorare su immagine e scrittura. Senza negare, ma al contrario facendo leva, sul legame con la nostra attestata madre El. Abbiamo puntato sul concetto di crossing culturale, accostato e mescolato discipline diverse come moda, arte, design, architettura e grafica. Abbiamo creduto in una nuova idea di visual e introdotto la tecnica del fotogiornalismo emozionale, puntando sul potere evocativo delle immagini. Il nostro modo di fotografare i prodotti ha cambiato il modo di fare comunicazione, come testimoniano molti dei cataloghi realizzati dalle aziende di settore. Le atmosfere che disegna Eldecor Italia sono luoghi reali e mai astratti, dove il contenuto di un prodotto diventa oggetto iconico e racconta la sua storia. Ed è proprio attraverso lo storytelling che abbiamo costruito un dialogo non solo con il lettore, ma anche con il network internazionale del quale siamo parte. Da questo osservatorio, da questa postazione privilegiata e con competenza e visione globale, possiamo fare molto, non solo divulgare i nostri contenuti e promuovere una nuova idea di fare giornalismo, ma anche monitorare il posto del made in Italy all'estero e accompagnare le aziende italiane nel mondo. Il fatto che le nostre immagini siano le più ripubblicate da tutte le altre edizioni del network, del network Eldecor, fa di noi un vero e proprio amplificatore del made in Italy, perché Eldecor è vicino alle imprese e il progetto culturale Be Original ne è stato un esempio concreto. Lanciato tre anni fa, Be Original è nato con l'obiettivo di difendere il design originale e tutelare il diritto d'autore, un'operazione che ha sancito l'evoluzione di Eldecor Italia da magazine a sistema editoriale, dalla carta al web, includendo mostre, talk e operazioni di brand extension. Nel 2013 Eldecor Italia ha presentato il sito Eldecor.it, un altro tassello della strategia per la divulgazione del design italiano worldwide, senza dimenticarsi del nostro premio Edida, il premio che ci consente di monitorare da una parte innovatori, start-up e ricerca, e dall'altro lo sviluppo di quelle edizioni che da una visione locale del design stanno evolvendo verso uno sguardo più internazionale. Un esempio eclatante è quello della Cina, che è stato in grado di innescare il cambiamento e promuovere un nuovo modo di vivere la casa. Attenzione ai segnali evolutivi, competenze intuitive crossing, fanno quindi di Eldecor Italia un vero e proprio laboratorio open source. Fin qui ero Livia Peraldo, adesso siccome non riesco a trattenermi aggiungerei giusto due parole e poi lascio a chi mi seguirà. Questo è Eldecor, questo descritto nello speech di Livia che vi ho riportato. La cosa che forse mi sento di aggiungere è che Eldecor ha saputo identificare e cavalcare qualcosa che in realtà stava avvenendo in un mondo che solo in modo indiretto è legato a Eldecor, cioè la grande capacità del design italiano di reinventarsi e la grande capacità storica di affrontare i momenti di crisi con innovazione e creatività così da ribaltare quello che per esempio negli ultimi anni è stato un momento di difficoltà interna all'Italia in un'opportunità per crescere sull'internazionale. Io mi sento di dire forse il settore per la visibilità che ne abbiamo noi e per lo scambio che facciamo di informazioni con i nostri colleghi internazionali, il settore che ha meglio attraversato questa fase ed è meglio stato capace di tradurre un momento di grave difficoltà e che oggettivamente lo Stato, non nascondiamoci dietro un dito, un'opportunità per costruire una piattaforma con un parco di clienti molto più ampio, una base installata di distribuzione internazionale e quindi un'opportunità, adesso che l'economia sembra dare dei piccoli segnali di miglioramento anche in Italia, per crescere ancora più forti, uscire dalla crisi con un'abbrivia ancora più forte. Ecco, noi con Eldecor siamo più che altro, vogliamo essere i testimoni e i narratori di questa vicenda, però la cosa di cui credo sia, ci debba tutti essere orgogliosi è appunto questa capacità di affrontare qualunque tipo di intemperia, riuscendo sempre a mantenere la rotta dritta, riuscendo sempre a costruire le basi perché il settore cresca più forte. Su questo mi sento, a nome di Eldecorio, a nome di Hearst, di fare i complimenti agli imprenditori e ai manager di settore perché è davvero difficile vederne un altro che ha saputo creare così bene le condizioni per ripartire. Lascio la parola all'assessore Tajani. Grazie mille.